Amiche e amici rossoneri ben ritrovati qui su Milanello, il nostro canale youtube dedicato al Milan Vi ricordo come sempre di iscrivervi se non lo avete ancora fatto qui sulla banderina rossonera Così non perdete nulla, tutti gli aggiornamenti sono per voi sul mondo del Milan ovviamente Il Milan che è il nostro pane quotidiano, questo è un canale che sprizza pixel rossi e neri, solo rossi e neri E lasciate il like, ovviamente con il testa e il Milan, il campo, pronti a darvi aggiornamenti su quello che accade Dalle parti di Milanello senza H In attesa di quest'ultima partita di campionato molto importante, molto difficile Devo dire che siamo abituati però a navigare nelle difficoltà, nell'emergenza E dunque speriamo di superare bene anche quest'ultimo ostacolo In un anno che è stato difficile per tutti, ovviamente extracampo molto 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 difficile Terribile per non dire altro Da un punto di vista di questa isola Milan, isola felice, sicuramente ci ha dato tante gioie Sperando che il prossimo anno ci riservi qualche gioia con la G maiuscola e non diciamo nulla per ora Ovviamente poi vi faremo gli auguri di Natale, Capodanno eccetera eccetera Ma in questo momento andiamo nel vivo, visto che nella community, nella sezione Milanello risponde Avete fatto tanti commenti, prevalentemente di mercato ma non solo C'è tanto mercato perché insomma siamo ormai a pochi giorni dall'inizio Ricordiamo che il mercato aprirà ufficialmente il 4 gennaio Prima però si possono imbastire e concludere le trattative, tesserare il 4 gennaio e magari già avere a disposizione i giocatori Dal 6 giorno in cui ci affronteremo in campo appunto la Juventus Partita molto importante Rispondo alle vostre domande dunque Partiamo da football area Possibili acquisiti, dice Scamacca Difensore centrale, centrocampista centrale La ciliegina sulla torta papu Allora Scamacca sicuramente piace, piace anche molto A noi di Milanello piaceva già lo scorso anno quando giocava nell'Ascoli Ora che si sposti a gennaio non è facile La Fiorentina ci sta provando già per gennaio Al Milan piacerebbe ma dal punto di vista economico rischia di essere un po' oneroso Un po' troppo dispendioso Detto questo il Milan è vigile anche per giugno Se non appunto per gennaio perché ritiene sia un giovane dal futuro assicurato Ha fatto tanti gol all'Under 21 Questa non sta facendo bene nel Genoa Ricordiamo che è di proprietà del Sassuolo E che al Genoa è in prestito fino a giugno Difensore centrale sì Poi risponderò anche alle altre vostre domande Per andare sulle candidature concrete Centrocampista anche qui il Milan Come abbiamo detto da una decina di giorni Qui per primi su Milanello È vigile anche sul centrocampista Ritenendo il reparto necessita appunto di rinforzi In quanto Krunic non sembra esattamente all'altezza Sperando che contro la Lazio invece lo sia E poi anche qui vi segnerò i nomi in questo video La ciliegina sulla torta Pappu Gomez Mi sembra un po' più difficile Perché è legata molto al futuro di Celanoglu Se Celanoglu non rinnova Allora Pappu Gomez può essere un nome spendibile Dalla società ufficialmente Potrebbero dirci qualcosa di diverso Di strategico Magari questo no Ci dicono che non ci sono le condizioni E che non è un obiettivo concreto Poi vediamo che cosa succede Prendiamolo con le pinze Ci sono i Krunic Ripiango Strasser scrive E Musacchio Paletta era meglio Allora Krunic potrebbe partire Musacchio ha chiesto di essere liberato A titolo gratuito Potrebbe andare al Genoa Sicuramente non rientra nei piani del Milan Claudio C In società c'è la volontà di prendere un vice Ibra a gennaio Che tu sappia si ritiene che con Rebic e Leao Che possono essere schierati anche da prima punta Si è già posto così Allora ufficialmente loro fanno sapere che Il Milan è a posto così Però l'abbiamo visto in tutte le partite Rebic lì purtroppo non ce la può fare Non perché gli manchi impegno Ma perché non è il suo mestiere Leao ha fatto un gol bello Pronti via contro Sassuolo Ma non perché giocava da numero 9 Sostanzialmente hanno capito che se c'è l'opportunità È meglio andare a prendere un numero 9 di ruolo Per essere più tranquilli In una stagione importante Con una classifica importante E che per questo Merita di ulteriori innesti Matteo Il Milan dovrebbe prendere Depay Costa solo 5 milioni E per me è l'uomo giusto Anche per fare il vice Ibrahimović Anche se non è il suo ruolo Faremo il salto di qualità È lui quello più vicino Ci sono altri nomi che interessano di più al Milan Allora Depay al Milan piace? Assolutamente sì Punto esclamativo So per certo che Maldini aveva provato a inserirlo Nell'affare Paquetà Ma il giocatore ha detto no Perché era in parola con il Barcellona Dopodiché il Barcellona non ha Perfezionato l'acquisto Perché attraversava E attraversa tuttora Non in buone acque Dal punto di vista economico-finanziario E quindi Depay che si sposta adesso Assolutamente interessa Da feedback più recenti Il giocatore piace Però Però Bisogna capire se lui Poi con il ritorno di Ibrahimo Accetterebbe di non giocare sempre Comunque Al Lione alla prima stella Gioca sempre Al Milan se rientra Ibrahimo Insomma Lì bisogna poi girare E non ha il posto da titolare inamovibile Questa nuova dimensione Forse potrebbe fargli Cambiare Idea Andare su altri profili E poi c'è il problema In gaggio Perché comunque Essendo quasi un parametro zero Parliamo di diversi milioni di euro E il Milan Ha una filosofia un po' diversa Però piace molto Ma non è l'unica candidatura Ci arriviamo nel corso di questo video Anche alle altre Poi Fra Erling Holland Quanto c'è di vero? Rinnovo Ciala Tutte le novità specifiche Operazioni di mercato invernale Allora Rinnovo Ciala Ci avviciniamo Loro Entourage Gordon Stipic Hanno abbassato le richieste Il Milan le ha alzate un po' Siamo sostanzialmente a 4 E 5 Balla un milione Secondo me Poi con dei bonus Si può risolvere E a trovare la fumata bianca Holland Al momento su gennaio Zero assoluto Sulla prossima estate Sono voci che sono circolate A me sembra molto improbabili Quindi non voglio illudere nessuno Direi di andare su profili diversi Perché Holland costa tanto E anche l'ingaggio è alto E la concorrenza di più Flavio Llorente Simacan è un centrocampista Da riserva Sarebbero buoni Da migliorare la squadra Direi di sì Llorente Una voce che è arrivata da Napoli Che non ha trovato conferme Qui a Milano Simacan Assolutamente si piace Difensore dello Strasburgo Che Ha 20 anni Ne farà 21 a maggio Altun 87 Che Ha il contratto in scadenza nel 2023 16 presenze Un gol e un assist Quest'anno in Liga Lui è uno che va anche avanti Può fare anche il terzino destro L'occorrenza Gioca sul centro-sinistra Centro-destra E Un particolare Che a me ha colpito Che non ha nessuna presenza Nella nazionale francese maggiore Né nell'under 21 francese Né nelle serie di nazionali minori E questo mi fa un po' specie Però fisicamente è molto forte È un giocatore esplosivo Così mi è stato descritto Da chi lo conosce meglio Direi che Ci dobbiamo fidare di Massara Di Moncada E di Maldini Al momento Lui in pole position Ma attenzione sempre a Kabak E anche a un altro nome Kabak è un giocatore Di 20 anni Anche lui 25 marzo 1,86 2024 Scadenza con lo Schalke Nazionale turco 8 presenze quest'anno Una squalifica Quest'anno non sta andando bene Il suo club Anche da un punto di vista Sportivo Oltre che economico Finanziario 6 presenze Con la nazionale turca Con la nazionale di Shanoglu Anche lui deve crescere Mi sembra un po' più pronto Come profilo Sinceramente Ma non è l'unico nome Ci arriviamo Nel corso di questo video E poi rispondiamo Allora A Saverio Non credi Aspetta che ho perso il messaggio Non credi che serva Una prima punta forte Da 20 con la stagione Considerando gli acciacchi di Ibra Eh sì Hai ragione Hai straragione Serve uno da 20 25 con la stagione Anche uno che possa diventare In pianta stabile L'attaccante del Milan Nei prossimi anni Anche dopo Ibraimovic Antonella Ti voglio dire che il Milan di Pioli Mi sta dando tantissime soddisfazioni Ed emozioni Ne sono felicissima Buon Natale Forza Milan Grazie Antonella Che dire Ci sta dando davvero tante emozioni Speriamo anche con la Lazio Milik è fattibile A gennaio mi sembra di no Mi sembra improbabile Perché il Milan È una rivale del Napoli E intanto 15 milioni Il Milan al Napoli Non li dà E il Napoli Comunque al Milan Non lo dà Perché è una rivale Non vuole rinforzarla Giovanni Messi come siamo messi L'unico suggerimento Che potrei dare È un buon lavoro A Pioli e Maldini Che stanno ben facendo Per la serie O Fele fa il tuo mestè Quindi fai il tuo mestiere Ognuno Credo sia quello il discorso Assolutamente ci fidiamo Adriano Cosa pensi Pioli Come pensi Pioli Imposterà il centrocampo Senza Benasser Che sia Tonali Se mancherà anche Tonali Credo che giocheranno O Cianonoglu e Krunic Oppure Cianonoglu e Calabria Che da giovanissimo Giocava in quella posizione Ma vediamo su Tonali Luca Spero che con il ritorno di Rebic Leao continui a fare la prima punta Noi qui su Milanello Lo auspicavamo da tempo Ci chiedevamo Ma perché Rebic Sempre in avanti E Leao indietro Leao è più vicino a Ibra Come caratteristiche Seppur non vicinissimo Ma Rebic lì non può farlo Tanto vale fargli fare il suo ruolo Cioè l'ala di sinistra E speriamo che si continui così Credo proprio di sì E che Ante venga rimesso Stabilmente a sinistra Vorrei chiederti Secondo te Quali saranno gli innesti Che verranno fatti a gennaio Magari dicendo i nomi Secondo la tua idea Di la difesa Abbiamo detto Simacani in polma Attenzione anche a Rudiger Che piaceva già La scorsa estate La procura in Italia Tra l'altro era di Totti Giocatore di 27 anni 28 a marzo Tedesco Scadenza 2022 con il Chelsea Quest'anno ha giocato poco o nulla È un profilo Che è decisamente più esperto Il pallino di Massara Che spinge per averlo Con la formula del pressito Così che poi le risorse economiche Che si risparmiano Possono essere investite In altre reparti Ma non tutti sono convinti Di investire su questo giocatore Anche perché ha un ingaggio Più alto rispetto Ai Simacan E ai Kabak Poi Questo per la difesa Per l'attacco Attenzione a Jovic Sempre Scamac Abbiamo detto Di Depay Che piace tanto Per il centrocampo Il nome Che è seguito Con attenzione Sempre quello di Sumare 21 anni 22 a febbraio 1,88 Scadenza 2022 Con il Lille Quindi ci avviciniamo Quasi alla scadenza Ha fatto 13 presenze In Ligan E 6 in Europa League Però Spesso a gare in corso Spesso sostituito Non è un titolare inamovibile Anche quando ha giocato Contro di noi Era partito dalla panchina Se non ricordo male Under 21 francese 4 presenze E Bisogna discutere però Della formula Soprattutto Il Milan non vorrebbe spendere Tanti tanti soldi 1,88 Potrebbe essere Quel Quello Giocatore Che può rinforzare Il centrocampo Che in un centrocampo a due Ci sta Assolutamente Bene Anzi benissimo Molto meglio Rispetto A Krunic E poi Andiamo avanti con Le vostre domande Cari amici Rossoneri Vista la situazione Precaria Centrocampo Si parla di un ritorno Di Pobega Mi sembra difficile Ma magari con un indennizzo Si può Pobega Secondo me Fino a giugno Resta allo Spezia E poi si può portare a casa Antonio Si potrebbe puntare Holland per il post-Iber L'ho detto Molto improbabile Restiamo con i piedi per terra Perché questa strada Dei giocatori Giovani Che non Che non paghiamo tanto Che poi valgono molto di più Sta rendendo Ad esempio Pagato per pochi milioni Il buon Salemakers Oggi ne vale molti di più E sta rendendo molto Sento dire che Simacane Impolperà difesa Ti convince Lo dicevo A me non convince appieno Un giocatore esplosivo Che può crescere Il fatto che non sia preso in considerazione Dalla nazionale francese Voi mi direte Anche Theo Hernandez Vero Ma Theo Hernandez Qualche presenza Nelle giovanili Delle nazionale francese Ce l'ha Lui proprio zero Poi Fidiamoci di Moncada Maldini e Massara La nostra grande triade E poi Ai mezzo Del Malmo Che te ne pare Sinceramente lo conosco poco 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 Quindi non ti posso dire qualcosa di più Marco Lo scambio Gomez Caldara lo escludo Anche perché loro Al momento Caldara Non lo vogliono riscattare Christian Troppi infortuni Secondo te Può esserci un problema Nel lavoro settimanale O sono da imputare la sfortuna Alcuni infortuni Sono da imputare la sfortuna Vedi Crotone Milan Rebic Vedi Gabbia Altri Sono secondo me Per eccessivo utilizzo Chiaer Che secondo me In Europa League Non doveva giocare C'è qualche campanello d'allarma E vedi Quando si ferma con il Napoli L'aveva già mostrato Lo stesso Ibra Quando si gioca ogni tre giorni Quando c'è una certa età Ci sono problemi E poi Non ricordiamoci Che è una stagione anomala L'anno scorso La stagione finisce tardi Giocando ogni tre giorni Poche vacanze Si riprende Giocando ogni tre giorni Quindi il muscolo È molto Sollecitato Usurato E purtroppo Questo secondo me Incide Non credo che ci sia Un problema di preparazione E poi c'è la sfortuna Evidentemente Penso che Amina Serve un centrocampista Un metronomo Più che un fisicato Che ne pensi? No Direi che invece Secondo me Servirebbe un fisicato Su Mare Che magari Ha dei piedi educati Quale rinnovo Si farà per primo? Chiede Geslan Allora Quale rinnovo Si farà per primo? Non è facile rispondere Loro sono molto più ottimisti Su Donnarumma Però sono un po' più fiduciosi Su Cialanoglu In questo momento Ti direi tra due Sempre Donnarumma E poi Alessandro Settimana prossima Al 30 si chiude per Jovic Questa è la sua previsione Jovic che potrebbe arrivare Con la formula del prestito Per sei mesi Per poi valutarne Eventualmente il riscatto Che mi sembra improbabile Visto che lui Ancora bilancio A tanti milioni Essendo stato pagato Un anno e mezzo fa Circa 60 milioni di euro Vi ringrazio per l'attenzione Ci vediamo poi più tardi Per altri aggiornamenti Sul Milan Sul campo Sulla formazione E non solo Lasciate il like Mi raccomando Iscrivetevi qui Sulla bandierina rosso Nera per non perdere nulla Sul nostro mondo del Milan Primi in classifica Forza Milan E un abbraccio a tutti voi Ciao